Buonasera a tutti, benvenuti al webinar del lunedì come di consueto alle ore 18 dove io con il mio collega nonché compagno di trading Enrico Lanati andiamo a vedere le nostre posizioni e le strategie per tutta la settimana. Benvenuto Enrico, un attimo solo Enrico perché ho qualche problema di audio, infatti non ti avevo abilitato l'audio, eccoci adesso ci sei. Buonasera a tutti, eccoci qua. Perfetto, ben arrivati a tutti, ci scusiamo prima di tutto con tutti quelli che stanno cercando di entrare nella nostra sala virtuale e non ce la fanno, anche grazie al Forex ECF di Tour del quale sono stato uno dei protagonisti la settimana scorsa, davvero questa sera ci state seguendo in tanti, vi ringraziamo per esservi già connessi, ci sono persone che sono appunto connesse già da mezz'ora, un saluto davvero a tutti quanti. Allora, la prima cosa che vi vogliamo far vedere è come sta andando bene l'operazione di Capodanno, questa operazione che con un amico ho fatto mettendo davvero pochi pochi soldi, quindi abbiamo messo mille franchi a testa per fare questa bella operazione che grazie alle performance positive del titolo Banca IFIS e grazie alle performance negative del titolo Deutsche Bank sul quale siamo a ribasso, come possiamo vedere dalla piattaforma, stiamo davvero facendo molto molto bene. Tra l'altro ho appena pubblicato proprio un articolino molto veloce proprio su Banca IFIS perché nonostante oggi la giornata sull'indice italiano sia stata molto negativa, perché nonostante siamo al di sopra del livello di 22.000 in percentuale, l'indice è sceso dell'1,88%, quindi un ribasso assolutamente importante, Banca IFIS se ne strafotte e va a fare i massimi storici di sempre, quindi questo a prova del fatto che, due cose volevo dire Enrico, le operazioni sensate si possono fare anche se non si hanno tantissimi soldi, grazie al fatto che se si sa usare bene la leva davvero ci dà delle ottime possibilità, e la seconda è che se ci mettiamo a rialzo su un titolo che ha dei fondamentali forti e se ci mettiamo a ribasso su un titolo che ha dei fondamentali deboli, riusciamo a fare del trading molto molto intelligente. Proprio per questo motivo Enrico, uno dei titoli che noi come sai preferiamo, che è Banca Generali, sulla quale abbiamo già speculato a rialzo diverso tempo fa, portando a caso un ottimo profitto, oggi ha avuto una performance negativa, per cui io ti volevo invitare e volevo proporti di rifare un'operazione stile operazione di capodanno, e metterci a rialzo su Banca Generali, in apertura domani sui mercati, perché chiaramente adesso il mercato italiano è chiuso, e poi nel primo giorno in cui Deutsche Bank sarà positiva, e capiterà perché potrebbe esserci domani un rimbalzo su questo titolo, andare di nuovo short, quindi andare a costruire una posizione simile perché siete in tantissimi appunto a voler fare un tipo di operatività di questo tipo. Cosa ne dici? Sono assolutamente d'accordo con quello che dici, nel senso che Banca Generali è un titolo, così come Banca IFIS, con dei fondamentali eccezionali, e di conseguenza non ha nessun senso non avere una posizione rialzista su Banca Generali. Noi se ricordate abbiamo fatto quel bel trade tempo fa, e quindi mi trovo assolutamente d'accordo sull'acquisto di questo titolo. Secondo me terrà molto di più, anche se rispetto all'indice, nel senso che se anche l'indice dovesse scendere, probabilmente Banca Generali reggerà di più perché è un titolo con fondamentali ottimi. Stesso discorso vale invece per il DAX e per Deutsche Bank. Deutsche Bank probabilmente performerà un po' meno bene del DAX, e quindi quando avremo una performance particolarmente positiva da parte del DAX, o di Deutsche Bank in particolare, a quel punto potremo shortare Deutsche Bank e faremo questa sorta di operazione in spread, però comprando un titolo buono e vendendo un titolo decisamente meno buono a livello di fondamentali. Bene, bene, bene. Allora, possiamo lavorare in due modi, perché se possiamo già inserire un ordine pendente, per esempio, generali, vediamo un pochettino, banca generali, ecco qua, possiamo mettere, cosa che tra l'altro ho appena fatto io sul mio conto personale, un ordine di compravendita, quindi di, scusate, di acquisto, a livello di 28, ok? Con un controvalore, possiamo fare un controvalore, Enrico, di 25.000 euro, tanto operiamo in leva, quindi 25.000 diviso 28 sono 892 titoli, ecco qua, ordine al limite, perfetto, abbiamo una richiesta di margine di 12.488, perfetto, chiaramente, questa operazione, noi, avendo un conto abbastanza capitalizzato, la possiamo fare con un certo controvalore, voi potete farla, chiaramente, col controvalore che volete, ok? Quindi, andando a cliccare su invia, perfetto, abbiamo inserito l'ordine, così, se domani mattina, banca generali dovesse aprire un pelino, un pelino più bassa di quello dove siamo ora, entriamo al rialzo, poi, nei prossimi giorni, magari già domani, andremo ad unire la seconda gamba dell'operazione, che sarà un'operazione ribassista, e probabilmente sarà sul titolo Deutsche Bank, però, stiamo a vedere, noi continuiamo a studiare, siamo sempre in attività, se dovessimo cambiare il titolo, ve lo faremo sapere. Giuseppe chiede, ah no, non è riguardante a questa operazione, quindi, tendiamo un attimo per le domande, andiamo avanti, se sei d'accordo Enrico, quindi, Long, operazione a rialzo su banca generali, a cui andremo a inserire, poi, una gamba ribassista, questa è un'operazione simile all'operazione di Capodanno, che abbiamo già fatto, e tanto vi è piaciuta, tanto che tutti i giorni sto mettendo l'aggiornamento della posizione, di come sta andando, vi metto il saldo e vi metto il risultato delle operazioni, qui nei commenti, vi aggiungo di giorno in giorno l'andamento, vediamo qua, appunto, che addirittura è migliorato, rispetto a quando l'ho pubblicato, ad ogni modo, vorrà dire che faremo e vedremo una nuova operazione di questo tipo, che tanto è piaciuta alle persone. Benissimo, io direi Enrico, di fare due parole, se sei d'accordo, sul segnale operativo di questa mattina, che è stato un bellissimo short su Euro GBP, un coronamento di quello che è stato anche il Forex CFD Tour, perché durante tutta la settimana scorsa, io sono andato in giro a dire, per tutta Italia, quanto sono belle le bande di Bollinger modificate, quanto sono belle questo strumento che utilizziamo per capire qual è lo strumento che si sta per accingere a fare un movimento importante, oggi abbiamo fatto proprio un'operazione, vedete che i prezzi, nel momento in cui siamo entrati, erano proprio a metà, al centro di queste bande. Dal punto di vista macro, che tipo di informazioni abbiamo sfruttato? Perché? Per spiegare bene alle persone, che tipo di operazione abbiamo fatto, per far capire anche come lavoriamo noi, abbiamo messo assieme un po' di elementi. Strategia 9924, che può tranquillamente lavorare da sola, con la compressione di volatilità, e lo vediamo qui, il dato c'era. A livello macroeconomico, sulla sterlina, cosa hai da dirci? Sappiamo che è un po' la tua passione, questa valuta. Ma guarda, questo cambio andrebbe visto, lo possiamo vedere sia così, sia con il GBPUSD. Sostanzialmente, che cosa è successo? Per farla in maniera molto semplice, la sterlina inglese, nell'ultima settimana, a dir la verità, ha perso molto valore nei confronti delle altre valute, nello specifico, contro il dollaro tantissimo, e contro l'euro un po' di meno. Infatti, tant'è vero che è arrivata quasi a 0,72, se vedi, c'è stato quell'incremento. Quell'incremento è stato dovuto prevalentemente all'intervento, o meglio, alle parole della Bank of England. Però, di fatto, erano parole che non avevano, a mio avviso, grosso significato. Nel senso che la Bank of England, che cosa ha detto? Prenderemo tempo, vedremo, faremo, comunque se ne parla nel 2016, per quanto riguarda il rialzo dei tassi di interesse, però comunque i dati erano decisamente positivi, insomma, quelli che stanno arrivando dall'Inghilterra, quindi di fatto era un prendere tempo, era un aspettare un po' quello che avrebbe fatto la Yellen, era un aspettare i non-farm payroll, e quindi la sterlina inglese ha perso valore, nei confronti anche dell'euro. Però, di fatto, non è cambiato nulla a livello fondamentale, tant'è vero che poi, dopo essere tornata quasi a 0,72, è scesa nuovamente fino in area 0,71,5. da quei livelli ci sembrava un'ottima occasione quella di metterci nuovamente al ribasso, come abbiamo fatto questa mattina, vedendo un punto piuttosto interessante, ecco, oggi io penso che possa ritornare su ancora una decina di pipi, per poi scendere nuovamente. C'è da aggiungere qualcosa, relativamente proprio a euro sterlina, che è stata l'unica valuta, la sterlina appunto, che nell'ultima settimana, di fatto si è indebolita tantissimo, e si è decorrelata rispetto alle altre valute, si è decorrelata dal dollaro, si è decorrelata da tutto. E questo fosse l'unico cross valutario euro sterlina, dove la sterlina si trovava ad essere in ritardo, cioè non si era ancora apprezzata. E quindi, dal punto di vista macroeconomico, questo era un trade che aveva decisamente senso, anche perché il trend di lungo periodo è comunque ribassista, e mi avviso andrà sotto il livello di 0,70, quindi da mantenere questa posizione. Bene, bene, bene. E poi, c'è da dire che, se come me, siete un po' ignorantotti, e non avete studiato, come invece ha fatto Enrico, che è laureato con il massimo dei voti, abbiamo inventato per voi il forecaster, che, senza pensare alla Jell, a Elena Draghi, e alla GBP, e alla BBP, e a tutte queste robe qui, semplicemente, questa mattina, dalle ore 9 in avanti, sull'euro GBP, c'era questo bel trend a ribasso, che, appunto, veniva assolutamente evidenziato dal forecaster, e quindi, adesso, a parte gli scherzi, perché io prendo sempre un po' in giro, Enrico, che si appassiona anche della macroeconomia, e trova sempre degli spunti molto interessanti, che anche a me poi piace analizzare, cercare di capire, anche se poi sono molto più terra a terra, e io dico, sì, ho capito, ma tanto, se i prezzi sono qua, quindi all'interno delle bande di Bollinger modificate, io so che devono esplodere da uno o dall'altra parte, se ho il forecaster che mi dice che ho davanti un bel po' di ore di ribasso, io mi metto a ribasso, quindi, questo per dire che cosa? Che l'analisi tecnica, le previsioni, e l'analisi fondamentale, quando vanno nella stessa direzione, sono uno strumento davvero molto molto potente, e in questo caso, oggi, appunto, abbiamo ottenuto un, bel profitto, che, appunto, adesso andiamo, andiamo a mantenere, proprio perché, ci sono, dei presupposti, che questo trend possa continuare, vogliamo alleggerire, magari, un pochino la posizione? Ma, guarda, si può fare tranquillamente, nel senso che, ecco, ne approfitterei anche per, per spiegare come fare, ecco, perché, per esempio, in questo caso, vedete, noi abbiamo fatto, abbiamo una posizione di un lotto, magari, avete il mini, ma non cambia assolutamente niente, la quantità è uno, semplicemente, noi, se vogliamo dimezzare, il nostro rischio, e portarci a casa, anche dei profitti, sostanzialmente, cosa facciamo? Andiamo a chiudere, metà, della nostra posizione, avevamo un contratto, andiamo a chiuderne, 0.5, vedete, siamo short, di conseguenza, andiamo a comprare, mezza posizione, se clicchiamo, vedete, che, il profitto, si è dimezzato, la posizione, si è dimezzata, perché, abbiamo chiuso, un pezzo, appunto, della nostra posizione, questo, secondo me, è molto importante, e anche perché, appunto, negli scorsi giorni, ho incontrato, in tutta Italia, tantissime persone, che utilizzano, il Forecaster, pensate che, siamo quasi, a 100 utenti attivi, sul Forecaster, quindi, davvero tantissimi, tantissimi, che lo stanno usando, tantissime persone, veramente, sono, eccitati, dai risultati, che stanno avendo, con questo strumento, quindi, è importantissimo, capire questo, il Forecaster, da solo, si può anche utilizzare, ma utilizzato, assieme, agli strumenti, dell'analisi tecnica, e all'analisi fondamentale, davvero diventa, una macchina da guerra, quindi, mi raccomando, non concentratevi, sui massimi e minimi, non concentratevi, sugli orari, che vedete qui, ma concentratevi, sulle tendenze, ok? Giusto Enrico? Assolutamente, sì, no, è uno strumento, che, tutti quelli, che lo stanno utilizzando, ci hanno dato, degli ottimi feedback, quindi, sono, sono contentissimo, Luca, volevo aggiungere, una cosa, sulla sterlina, e sulla, sulla posizione, che hai chiuso, perché, mentre la chiudevi, ho detto, cavolo, però, sai io, che cosa avrei chiuso, più dell'euro GBP, che va benissimo, aver portato a casa, a metà del profitto, la posizione, che abbiamo, su GBP, Yen, perché noi, siamo molto più esposti, sullo Yen, quindi, su quella posizione, secondo me, possiamo alleggerire, o addirittura, chiuderla. Bene, bene, cosa faccio, ma spiegami, il motivo, per cui, vuoi alleggerirla, o chiuderla. Perché, perché, lo Yen, a differenza, di Euro GBP, lo Yen, si è già svalutato, tanto, nei confronti, delle altre valute, visto, dollaro Yen, guarda che movimento, che abbiamo avuto, su dollaro Yen. Vediamo, andiamo subito, a vedere dollaro Yen, mi hai preso, un attimo, la sprovvista, quindi, voglio capire, cosa, cosa stai per fare, vediamo, eccoci qua, questo è un grafico orario, è salito molto, quindi, effettivamente, lo Yen si è svalutato. Ok. Esatto. Quindi, noi avevamo, una grossa esposizione, sullo Yen, e una esposizione minore, sulla sterlina. Secondo me, la sterlina, nei confronti, dello Yen, si è già apprezzata, non si è ancora apprezzata, molto, nei confronti, dell'Euro. Quindi, tra le due posizioni, tra Euro GBP Short, e Long GBP Yen, sono entrambe belle, però, mi piaceva di più, essere più esposto, su Euro GBP. Detto questo, va benissimo, quello che abbiamo fatto, però, allora, alleggerirei, in parte, anche GBP Yen, così portiamo a casa, un po' di profitto. Allora, facciamo 0.5, anche in questo caso, giusto per far capire, a chi, non è pratico, della piattaforma, vedete, che io adesso, sto andando a vendere, 0.5, quello che vedrete, adesso ve lo faccio, vedere GBP Yen, eccolo qua, vedrete, dimezzarsi, questo profitto, e questa quantità, ok? Adesso ve lo faccio vedere, è importante, vedete, noi abbiamo una posizione di 1, Long, vedete che c'è più 1, andiamo a vendere, quindi fare uno short, di 0.5, la risultante sarà, più 0.5, ecco qua, avete visto, si è dimezzato il profitto, perché abbiamo portato a casa, chiaramente, una parte dei profitti, e qui abbiamo più 0.5, ok? Quindi molto semplice, molto intuitivo, è importante far vedere queste cose, soprattutto perché, siamo in tanti, anche questa sera, che, sono tante le persone, che hanno appena cominciato. Ecco, diciamo, questi concetti, io li vedo molto spesso, durante il trading live, nel quale, decidiamo, quali posizioni tenere, quali posizioni chiudere, quali posizioni alleggerire, di norma, ecco, la cosa importante è questa, ricordatevi sempre, adesso abbiamo portato a casa, parte del profitto, dovesse tornare indietro, il mercato, potremmo comunque, per esempio, se EuroGBP, tornasse a 0.71, e 50, 0.71, e 65, avremmo la possibilità, di riprendere questo mezzo lotto, quindi, di rimetterci nuovamente short, quindi, lavorarci dentro, all'interno delle posizioni, chiudere metà posizione, mettere gli stop in pari, o in profitto, sicuramente, è molto interessante, per avere delle performance, ancora più, più importanti, insomma. Bene, 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 allora, io direi, dato che, sicuramente, sono tutti, in attesa, di, avere qualche informazione, sull'andamento, di questo mercato, che ci sta facendo, un po' impazzire, andiamo a vedere, il grafico, dell'Italia, perché, anche oggi, dopo, una partenza, che sembrava positiva, per i mercati, c'è stato un bel tonfo, verso il basso, che possiamo andare a vedere, qui sul grafico, orario, e, i prezzi, sono tornati, ai livelli, praticamente, del, 22 ottobre, ovvero, in aria, poco sopra, aria 22.000, allora, qui, questo, questo mercato, ci sta facendo, veramente, veramente, impazzire, perché, ogni, vero è che non è neanche sceso, eh, attenzione, perché, i livelli di oggi, sono i livelli, praticamente, del, di, di ottobre, quindi, i livelli di, di qualche, di già qualche mese fa, e, io, personalmente, rimango, convinto, che, questo sia un mercato, che, entro la fine dell'anno, ce lo ritroveremo, a 24.000, ma, perché, non parte, questo, questo cavolo di mercato, qual è il problema? Cosa gli investitori stanno aspettando? Cosa gli investitori internazionali stanno aspettando a, eh, per entrare massicciamente su questo mercato, che a livello di equity, è in assoluto il più promettente a livello mondiale? Guarda, io mi sono fatto la mia idea, tra l'altro, ho visto che c'era un commento dell'amico Marco, eh, proprio su questo discorso, ne abbiamo parlato durante l'ultimo Trading Live, cosa succede? Adesso c'è il problema legato alla IEL, ne è uscito un dato sull'occupazione americana, è estremamente importante, estremamente buono, questo avvicina il rialzo dei tassi da parte della Fed, cosa vuol dire? Vuol dire che probabilmente le misure di stimolo, all'economia americana, si ridurranno, nel senso che, si alzeranno i tassi di interesse, e questo dovrebbe avere un impatto negativo, sul mercato dell'equity, quindi, equity America, vuol dire mini Nasdaq, mini ISP, e quant'altro, quindi questo dovrebbe indebolire gli indici americani. Secondo me, però, si tratta di una cosa assolutamente contingente, quindi io penso che il rialzo ci sarà, ma potrebbe essere traslato giusto di qualche settimana, di due o tre settimane, quindi, quello che mi attendo è questo, mi attendo che, innanzitutto, gli stimoli non ci saranno più, o meglio, saranno minori in America, ma continueranno ad esserci in Europa, quindi Draghi continuerà a sostenere il mercato dell'equity europeo, comprando comunque asset, e quindi non essendoci rendimento sui bond, gli investitori dovranno, quelli privati, e i fondi dovranno investire sull'equity, quindi Draghi avrà una politica diversa da quella della Fed. La Fed e i mercati americani avranno uno storno, quindi io penso che ci sarà uno storno da parte dei mercati americani, modesto, quindi uno storno fisiologico, poi ci sarà il famoso rialzo dei tassi, e dopo 10-12 giorni, secondo me, una settimana, due, i mercati si riallineeranno, e torneranno ad andare al rialzo, con l'Europa che, secondo me, performerà meglio dell'America, questa è un po' la mia visione, quindi, non è che il rialzo non ci sarà, ma semplicemente, bisognerà attendere ancora un attimino, prima che si possano vedere, dei rialzi veramente importanti, che quando arriveranno, però saranno estremamente significativi, tempistiche più o meno, quali possono essere, secondo te, i tempi, i tempi appunto di, anzi, due domande ti faccio Enrico, qui vediamo, che ho tracciato, una semplice trend line, che congiunge i massimi, del 29 di settembre, scusate, i minimi del 29 di settembre, con i minimi del 22 ottobre, vediamo che questa trend line, è stata rotta, al ribasso, ed effettivamente, secondo le nostre strategie, di trading, più classiche, il punto, dove la trend line, viene rotta, spesso e volentieri, un ottimo livello, dove entrare, in direzione del trend, quindi in questo caso, se, fossimo stati, in un altro periodo, ci saremmo messi short, non ci siamo messi short, perché questo, è il classico periodo, di stagionalità positiva, per i mercati finanziari, tant'è che appunto, poi gli short, per ora, non sono andati, chissà dove, in questo caso, quali possono, fin dove si può spingere, al ribasso, questo indice, e, per quanto tempo, secondo te, lo so che, è una previsione, veramente, da mago, da mago di arcella, però, è giusto per avere, secondo me, una tempistica, che può essere interessante, per tutti, ecco, perché tracciando un canale, come quello che ho fatto io, una visitina sotto 22 mila, potrebbe anche starci, detto questo, detto questo, secondo te? Ma, guarda, allora, consideriamo che, il dato, più importante, a livello macroeconomico, da qua a fine anno, ce ne saranno due, ci sarà il non-form payroll, dell'inizio del mese prossimo, e sarà, mi sembra, il 2 di dicembre, ma soprattutto, la decisione della Yellen, che sarà il giorno 16, ora, fino al giorno 16, secondo me, è difficile, 16 di dicembre, ovviamente, secondo me, sarà difficile, vedere un'esplosione, rialzista, dei prezzi, io penso, che ci sarà, abbastanza, una fase laterale, di attendismo, che è un po' quella, che abbiamo visto, nell'ultimo, nell'ultimo mese, praticamente, una fase, abbastanza laterale, dove i prezzi, non sono riusciti, a esplodere, al rialzo, io penso, che il livello di 22.000, potrà essere toccato, perché così, insomma, tutti gli operatori, che si sono messi a rialzo, e che hanno gli stop, su quei livelli, usciranno, dal mercato, quindi, io sono convinto, che faremo un giro, più o meno, sulla trendline, che hai segnato, intorno a 21.800, penso che potrà essere fatto, e, da lì, potremmo, potremmo assistere, finalmente, al rialzo, il rialzo, però, secondo me, è più importante, lo avremo, va bene, che andiamo, un po' in là, però, con la prima, primi 15 giorni, dell'anno prossimo, quindi, io sono convinto, che, fino al 16, di dicembre, non ci saranno, particolari rialzi, e, i grossi rialzi, li vedremo, li vedremo dopo, li vedremo, una decina di giorni, dopo il 16 dicembre, però, a quel punto, sarà Natale, quindi, con l'inizio, dell'anno nuovo. Guarda, vediamo, io ti dico, potrebbe essere, secondo me, che i prezzi vadano, anche, fino a 22 mila, ma, secondo me, sotto, è davvero tosta, tant'è che, vediamo che, il prezzo, proprio di oggi, è rimbalzato, su questa trend line, che congiunge, i massimi, i minimi, delle spalle, di questo test e spalle, che vediamo, su tutto questo grafico, non lo so, se io sono un po' più ottimista, secondo me, il range, allora, io la vedo così, potrebbe esserci lateralità, ok, in decisione, ma assolutamente, al di sopra, del livello di 22 mila e 5, 22 mila e 6, quindi, mi piacerebbe, sostanzialmente, vedere i prezzi, che da qui, si spostano, repentinamente, in questa fascia, e da qui, possono anche, cazzeggiare, per poi ritrovare, magari, questa trend line, e ripartire, vediamo un pochettino, me lo studio, a livello di tempistiche, non sono preparato, in questo momento, da quando c'è il forecaster, Enrico, ti dico la verità, sono diventato, un po' pigro, perché è talmente comodo, infatti, spero di riuscire, a breve, a convincerti, a mettere, ad accordare, un po' di, di investimenti, sul forecaster, e fare il forecaster, anche per gli indici, perché, secondo me, ne vale davvero, la pena, però, a parte gli scherzi, insomma, vediamo un pochettino, è assolutamente importante, questa posizione, la cosa intelligente, da fare, proprio, alla luce, di questa tua analisi, allora, molto probabilmente, è operare, come abbiamo detto, per esempio, l'operazione, su banca generali, mi piace ancora di più, ecco, alla luce, di questa fase laterale, che potremmo avere, di fronte, ha molto senso, operare, in questo, in questo modo, ecco. Ma guarda, io ti dico una cosa, nel senso, io non sono depresso, del fatto che, comunque, abbiamo delle posizioni, long, in questo momento, su Italia 40, secondo me, è solo una questione, di tempo, probabilmente, le cadenze, diciamo che, o meglio, le scadenze, che hanno, gli operatori macroeconomici, faranno sì, che questo indice, si muoverà, con ritardo, rispetto alla classica, stagionalità, però questo, secondo me, non è un grosso problema, secondo me, facciamo bene, a iniziare a costruire, una posizione a rialzo, come stiamo facendo, l'importante è utilizzare, una leva adeguata, quindi non esporsi tantissimo, il classico cippino, lo possiamo avere dentro, tranquillamente, tanto comunque, sono convinto, che prima o poi, e magari, appunto, tra un mesetto, un'esplosione rialzista, ci sarà, l'unica, l'unica cosa, appunto, moderiamo le size, su quella che è, la grandezza, del nostro conto, perché non dobbiamo escludere, che questo indice, comunque, 300-400 punti, arrivasso, che vuol dire, di fatto, un 2%, un 2,5%, li può fare, li può fare tranquillamente, cioè, un 2% è una cosa normale, sul mercato dell'equity, quindi, aspettiamoci, uno storno, che potrà esserci, a quel punto, magari potremo valutare, di incrementare, in parte, la nostra posizione, rialzista, insomma. Bene, 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 insomma, comunque, osservato speciale, l'indice italiano, perché, dobbiamo riuscire, comunque, a prenderlo, e, rimaniamo convinti, di questi rialzi. Ora, la superstar, delle piattaforme, di trading, Enrico, cambio, che ci ha fatto fare, veramente, un sacco di soldi, ma, dato che i soldi, non sono tutto nella vita, ci ha fatto fare, anche, delle ottime, figure, nelle ultime conferenze, che abbiamo fatto, perché, in Borsa Italiana, quando abbiamo presentato, il forecaster, avevamo detto, che l'euro dollaro, sarebbe crollato, e da lì, a pochi minuti, mentre ancora parlavamo, l'euro dollaro, ha iniziato a crollare, in, davvero, davvero, in maniera repentina. durante tutta questa settimana, io ero in giro, e, con la strategia, 9924, dicevo, signori, l'euro dollaro, deve, deve scendere, il dollaro è troppo forte, l'euro è debole, il forecaster, dice che si scende, e, guardate, che bella settimana che è stata, io vi giuro che, quando finivo le conferenze, facevo fatica, poi alla sera, a prendere sonno, perché, ero, ero, avevo l'adrenalina addosso, ecco, c'è chi ha bisogno, degli stupefacenti, ecco, noi abbiamo i mercati finanziari, e proprio non riuscivo a prendere sonno, perché dicevo, cacchio, ma come, come cacchio va bene, questo forecaster, ma quanti soldi stiamo facendo, insomma, davvero, perché, tenete presente, che noi, tempo fa, e con tempo fa, intendo, molto tempo fa, adesso vi faccio vedere, qui in alto, in questa zona, noi ci siamo riempiti, di obbligazioni in dollari, quindi, le nostre obbligazioni in dollari, anche se ultimamente, i rendimenti sono un po' calati, ma, in conto capitale, cioè, a livello di cambio, ci hanno fatto fare, davvero, dei profitti importanti, quindi, insomma, davvero, il fatto di rivedere, l'euro dollaro, al livello di 1,07, vicino a 1,07, in questi giorni, insomma, vuol dire davvero, rivedere dei livelli, anche dei conti, personali, davvero, davvero importanti, ovviamente, Enrico, la domanda che in tanti, ci fanno adesso, è, cosa fare adesso, è possibile entrare short, oppure, è il momento di entrare al rialzo, la vera domanda è, ma che cazzo avete aspettato, entrare short, che sono, veramente settimane, che vi diciamo di entrare, c'è ancora qualcuno che ci scrive, ma è troppo tardi, sì cazzo, dovrei entrare prima, però, a parte gli scherzi, giustamente, non tutti sono, sono sul pezzo, quindi, che si fa? Si scende ancora? Guarda, secondo me, qui, è molto semplice, l'operatività che bisogna, che bisogna fare, nel senso che, ogni qualvolta, ci sarà, un, un, diciamo, delle candele, verdi, quindi al rialzo, si creeranno, delle ottime occasioni, per vendere, io vedo, come livello, molto interessante, quello di 1,08 e 30, più o meno, eh, 0,8 e 5, sì, in quei livelli, che stai indicando, tu tra, 1,08 e 30, 1,08 e 50, quali, quali, secondo me, saranno degli ottimi, ottimi livelli, per, per entrare nuovamente short, perché, comunque, non verrà riassorbito, almeno nel brevissimo, quella che è stata la candela dovuta, in un fan payroll, quindi, da lì, si può rientrare short, il concetto, è importante, è questo, cioè, non dobbiamo, entrare con rapporti rischio rendimento, che non siano favorevoli, quindi, ha senso, a mio avviso, aspettare, che il mercato ritorni, intanto, ha un movimento sinuoso, euro-dollaro, tornerà su quei livelli, e da lì, shorteremo ancora, in ogni caso, appunto, adesso, quello che si attende, è il rialzo dei tassi, quindi, il rialzo dei tassi, vuol dire forza, per la valuta, certo che ci sono persone, che dicono, ma questo è già ampiamente scontato, benissimo, questo è già ampiamente scontato, però io, comunque, nel dubbio, al momento, i dollari, tendono a venderli, tendono a comprarli, quindi, uno può dire, è vero, che il rialzo dei tassi, è scontato nei presti, sicuramente, la Jelen lo farà a dicembre, a parte che, di sicuro, non c'è nulla, e comunque, mi avviso, c'è la morte, e le tasse, e oggi, abbiamo visto, quando abbiamo pagato di tasse, lasciamo perdere, è vero, è vero, è vero, lasciamo perdere, che tutti pensano, che noi in Svizzera, non paghiamo tasse, invece, ne abbiamo pagato un sacco, vabbè, non voglio fare polemica, dai, è più dura del muro, vabbè, 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 vai, dai, no, e mettiamo un ordine, dai, perché, allora, volevo far vedere, appunto, spiegato poi, in parole povere, da me, guardate qua, l'euro dollaro scende, rimbalza, e noi entriamo, prendiamo, che vedete, dove c'è questa linea, qua blu, dove siamo entrati short, poi, Luca, ti interrompo un secondo, solamente, entriamo a, 13 e 70, cioè, esatto, ma, esatto, 13 e 70, ma, secondo me, la vera figata, è che l'abbiamo tenuta, questa operazione, perché, guarda, che non è facile, mantenere, mantenere, in portafoglio, delle posizioni, che guadagnano così tanto, e guarda, che noi, abbiamo delle posizioni, da 1 e 37, che chiaramente, adesso, su questa, sulla, sulla piattaforma, che useremo per i webinar, non le abbiamo più, però, guardate che, cioè, riuscire a mantenere, delle posizioni, con questo profitto, fa veramente, la differenza, tra chi guadagna, e chi perde, perché, se voi, appena avete un piccolo profitto, chiudete, poi lasciate correre le perdite, fate, una cosa, che vi porterà al fallimento, ok? quindi, invece, qui, semplicemente, individuata la tendenza, ok? Semplicemente, noi entriamo, quando c'è un ritracciamento, verso l'alto, l'abbiamo fatto qui, poi i prezzi sono scesi, l'abbiamo fatto di nuovo qui, e i prezzi sono scesi, e lo rifaremo ancora, come si fa? Si fa, inserendo un ordine pendente, adesso Enrico, ha individuato questa zona, di 0,8 e 30, io ho individuato 0,8 e 50, cosa facciamo? Mettiamo, un bel ordine short, andate qui, euro, dollaro, ordine di apertura, direzione, vendi, 1, 0,8, lui diceva 30, io 50, facciamo 40, 0,8 e 40, ordine al limite, e facciamo quello che abbiamo fatto, per banca generali, mettiamo un ordine pendente, fatto, quando i prezzi arriveranno lì, vedete che è apparso, è apparsa una linea rossa, esattamente al centro della zona, che abbiamo individuato, quando i prezzi arriveranno qui, scatterà in automatico, un ordine short, su euro, dollaro, e speriamo appunto, di andare in profitto anche con questo, così si fanno i sordi, ok? Perché, questo è l'unico modo, far correre, è la cosa più banale del mondo, che avrete sentito miliardi di volte, ma far correre i profitti, e tagliare le perdite, è l'unico modo per fare profitti, ok? Questo è importante. ce l'ha ricordato anche Marco, non so se hai visto, che c'è l'articolo della pizza, di Marco, esatto, andiamo a vederlo, perché Marco pensa, che noi scherziamo, che la pizza poi passa in cavalleria, ecco qua, pizza pagata, caro Marco, guarda che io e Enrico, ci veniamo a mangiare la pizza, perché, siamo due persone, che non perdono l'opportunità, di scroccare una pizza, quindi mi raccomando, e qui, cosa ci dice Marco, di bello, raccontami un po', Enrico, che te li leggi, proprio tutti gli articoli, No, perché ne abbiamo parlato, durante il trading live, che questa settimana sarà, nella giornata di venerdì, alle 9 e mezza, quindi faremo la sessione mattutina, dalle 9 e mezza, alle 11 e mezza, proprio abbiamo parlato del, facciamo correre i profitti, in questo specifico caso, si parlava di sterlina dollaro, abbiamo fatto tutta quell'analisi, dicendo, ma guardate che poi, da sterlina dollaro, la sterlina perderà valore, nel confronto del dollaro, e andrà a toccare, quei livelli di minimi, e quindi, insomma, abbiamo fatto questo trade, Marco, gli avevo detto, no, ma guarda Marco, ma mantieni da questa posizione, perché, secondo me, bisogna sfruttare, insomma, tutto quello che è il movimento, lui l'ha fatto, e, insomma, sono contento per lui, insomma, che ha guadagnato con questo trade, bene, 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 però ha imparato, diciamo, a sfruttare, i movimenti, quando ci sono dei movimenti importanti, è bene sfruttare tutto il movimento. Ma tu ti ricordi che Marco voleva abbandonare, aveva abbandonato il trading, aveva fatto tutto sto casino, perché non riusciva a fare trading, e invece, vedi, adesso addirittura ci offre la pizza, mannaggia Marco, ah, che pazienza che ci vuole con Marco, dai, a parte, a parte gli scherzi, allora, no, a parte gli scherzi, veramente, Marco, facci sapere quando, perché noi la pizza la vogliamo, detto questo, vediamo un pochettino, abbiamo parlato della superstar, euro dollaro, che veramente, io, sono tentato di farmi un tatuaggio, Enrico, perché, non so, anzi, lo so, anche per te, ma probabilmente è la valuta che abbiamo munto di più negli ultimi anni, quanti soldi abbiamo fatto sull'euro dollaro, veramente ogni tanto mi vergogno con me stesso, perché l'abbiamo proprio cavalcata, e dico cavalcata, per non dire qualcosa di volgare, dato che ci sono anche delle donne in questo webinar, ma cosa ci abbiamo tirato fuori da, da questo euro dollaro, veramente, incredibile. Beh, poi chi ci segue da tanto tempo, sicuramente si ricorderà anche i long su euro dollaro, ti ricordi, prima delle elezioni europee, guarda, adesso se voi andate sul nostro canale di YouTube, no, li trovate tutti i vari video, tutte le varie registrazioni, delle varie video analisi, e c'era il discorso, quello legato alle, che si chiamano le elezioni europee, quando c'era la Merkel, che aveva bisogno di avere un euro forte, e andò su fino a 1,4, se vi ricordate, noi là stavamo cavalcando. No, in verità, qui Enrico, è molto importante da ricordare, perché noi da 1,39, dove eravamo, ci aspettavamo che andasse a 1,45, se ti ricordi, ma poi semplicemente, che cosa successe? Successe questo, ovvero che i prezzi ruppero, la trendline ribassista, su cui avevano creato, tutto questo rialzo, e semplicemente poi cominciamo a metterci short, su questo pullback, che i prezzi fecero, sull'ultimo minimo, infatti, l'abbiamo detto prima, 1,37, quindi, anche dal punto di, qui, io mi ricordo che noi abbiamo detto, abbiamo sbagliato, è cambiato tutto, non si va a 1,45, si va in giù, e da lì, infatti, poi abbiamo cominciato a fare tutto quanto, quindi, per rispondere poi, per venire al dunque, perché, qui, le persone, Henry, si connettono, per sapere, noi che cosa faremo, durante la settimana, abbiamo messo l'ordine pendente, su Eurodollaro, ma, signori e signore, ricordatevi, che c'è questa trendline, la trendline, che sul grafico settimanale, o mensile, che dir si voglia, passa per i minimi dell'85, parte dai minimi dell'85, passando per il 2000, 2001, 2002, e punta diretta a 1, ok, sull'Eurodollaro, si sta short, le operazioni, vanno fatte short, perché il target, è la parità, ok, adesso era già un po', che non lo dicevamo, ogni tanto, questo grafico, è importante farlo vedere, perché questa trendline, è importantissima, ok, Enrico? sono d'accordissimo, guardate quante ombre, sopra i livelli di 1,10, su questo grafico, che è il grafico mensile, insomma, qui abbiamo avuto gli, ci sono state tante cose, che hanno creato quelle ombre, c'è stato il problema con la Cina, vi ricordate, perché poi tutto torna, comunque, guardate, siamo sui minimi, di fatto, siamo sui minimi, che abbiamo visto precedentemente, proprio come corpi delle candele, lì quando ci sarà la rottura, sarà una bella rottura forte, quindi sarà importante, secondo me, averci delle posizioni, come sarà importante, avere dei cipettini, a rialzo sull'Italy 40, sarà importante anche avere, dei cipettini, o delle posizioni, a ribasso su Euro-Dollaro, assolutamente, continuiamo su questa linea. Allora, un minuto Enrico, mi prendo, per spiegare, a tutte le persone nuove, che sono connesse oggi, che non sanno, come essere, come diventare, nostri, eh, nostri clienti, allora, noi che cosa facciamo, sostanzialmente? Tendenzialmente, facciamo un'operazione, al giorno di trading, che, volendo, possiamo inviarvi, via SMS, quindi, per, eh, se volete, maggiori informazioni, su questo servizio, ecco qua, andate nella sezione, servizi premium, e cliccate su segnali operativi, che cos'è? Segnali operativi, molto semplice, se non avete tempo, di studiarvi le nostre strategie, di imparare da soli, potete riceverli, via SMS, quindi, tutte le mattine, direttamente sul vostro telefonino, vi diciamo quello che stiamo facendo noi, esattamente in tempo reale, è possibile abbonarsi, pagando un abbonamento mensile, oppure, oppure, se aprite un conto con il broker IG, passando da questo link, che sostanzialmente, è un link, che dice, ad IG, che siete passati dal nostro sito, e lo finanziate con almeno 1000 euro, questo conto, gli SMS sono gratis, ok? Quindi, se volete farvi pagare l'abbonamento da IG, aprite un conto, passando da questo link, se non volete aprirlo per i cavoli vostri, perché avete paura di sbagliare, mandate una mail a info, chiocciola investire.biz, chiocciola investire.biz, e la nostra mitica Sara, che in tanti di voi conoscono, vi darà supporto, per aprire un conto, vi indicherà come fare, e vi aiuterà, vi mando anche la pagina, così che tutti quanti possiate, valutare questo servizio. Poi tenete presente, che gli altri servizi, premium, sono, il trading live, ovvero, tutte le settimane, una sessione operativa, da due ore, quindi trading in tempo reale, cosa cambia, rispetto alla sessione del lunedì, che qui siamo tantissimi, e di conseguenza, non abbiamo tempo di seguirvi, uno ad uno, di conseguenza, e invece, nel trading live, siamo molti meno, perché siamo 20, 30 persone, riusciamo proprio, tu sei stato via, e l'ultima volta, c'erano più di 50 persone, collegate al trading live, bene, 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 molto bene, c'è sempre più gente, tra l'altro appunto, moltissimi lo fanno a pagamento, insomma, io consiglio di sfruttare, la possibilità, di poterci partecipare, esatto, come si fa, è possibile, o, chiaramente, come hai appena detto te, pagare, la sessione costa 49 euro, con carta di credito, altrimenti, se avete un conto con IG, aperto, sempre per il nostro tramite, finanziato con almeno 2000 euro, per voi, è gratis, ok? Per concludere, proprio, e arrivare, alla fine, di quello che sono, i nostri servizi, se volete utilizzare il Forecaster, potete, o, abbonarvi, e semplicemente, qui, avete, nella sezione abbonamenti, i vari tipi di pagamento, con, chiaramente, più lungo fate l'abbonamento, e più risparmiate, perché se fate, 12 mesi di abbonamento, risparmiate 357 euro, altrimenti, anche in questo caso, se aprite un conto, passando per il nostro tramite, ok? E lo finanziate con almeno 3000 euro, il Forecaster, per voi, è gratis, ok? Quindi, abbiamo fatto questa carrellata. Andiamo adesso, torniamo operativi sui mercati, perché, Henry, voglio vedere l'oro, perché sull'oro abbiamo una scommessona, non una scommessa, abbiamo una scommessa aperta con un autore, addirittura, di un libro sull'oro, Carlo Alberto De Casa, che era stato nostro ospite, a Rimini, io con lui ho fatto una scommessa, dicendo che, a mio avviso, entro il Rimini dell'anno prossimo, quindi l'ITF di Rimini, che si farà, credo, a marzo, aprile, quando è che è Enrico? A maggio, a maggio. Ok, a maggio, aspetta che facciamo vedere anche il libro, Carlo Alberto De Casa, investire con l'oro, vediamo un po', ecco qua, questo è il libro, che è un bel libro, cosa abbiamo fatto? Scommessona, io dico che, entro Rimini prossimo, quindi a maggio prossimo, l'oro sarà andato a mille, dollari per oncia, lui dice di no, Enrico, qui, sei ancora convinto del ribasso, la vedi come me, al livello di mille? Allora, guarda, io qui, se vedi, non abbiamo più posizione, perché io prima dell'ultimo dato sui non-farm payroll, avevo detto alleggeriamo un po' di posizione, quindi in realtà l'avevamo chiusa proprio in un intorno di mille, quindi non tanto distante dai livelli, scusate, di 1100, esatto, non tanto distante dai livelli attuali, nel senso che io mi aspettavo che, cioè volevo ridurre il rischio in prossimità del dato sui non-farm payroll, quindi l'ho ridotto la posizione proprio perché stava scendendo da tantissimo tempo, avevamo un discreto utile. Abbiamo fatto male, ma ovviamente non potevamo prevedere, insomma, che uscisse un dato così forte sui non-farm payroll, e l'oro è molto più volatile dell'euro-dollaro, quindi ho detto, porto a casa la posizione sull'oro, e rimango esposto appunto sul dollaro americano. Niente, si poteva guadagnare qualcosina in più, ma avremmo preso sicuramente più rischi. Sono convinto di quello che dici, secondo me questo cross, anche con rafforzamento, scusami, questa materia prima, anche con rafforzamento del dollaro, non può che perdere valore, quindi qui il ragionamento è esattamente lo stesso, secondo me da 1110, più o meno, si può ricominciare a mettersi short con forza, cioè adesso aspetterei una bella candela verde, per fare un bello short. Allora, fammi mettere un ordine pendente, perché cazzarola, appena mi giro, mi chiudi le mie posizioni, e mi fai incazzare come una iena, mannaggia, e l'hai fatto anche con l'euro-dollaro, che se non mi svegliavo le due di notte, a riaprire tutte le posizioni, eravamo lì a piangere, che non avevamo preso. Adesso mi fai rimettere il mio ordine, io guarda, vado sul gold, ricerco appunto lo spot gold, perfetto, quale contratto mi fai fare? Facciamo il mini da 10 once, perché lo facciamo in dollare, se il dollaro si apprezza, guadagniamo anche qualcosa in più. Ok, ne approfitto anche per far vedere, prima di fare un trade, andate a vedere cosa state facendo, cliccando sulla freccetta, andate in dettagli operativi, e vedete quanto vale ogni pip, ok? in questo caso, un pip vale 10 dollari, ok? Quindi quando si sposta di un pip, si sposta di 10 dollari, lo volete più piccolino? Andate sul contratto da un euro appunto, e nei dettagli operativi, vedete che un pip vale un euro, questo è importante, non fate cazzate, ok? Non fate come un mio amico, che ha aperto il conto con i G, e se, per fare un'operazione di prova, si è messo a rialzo, con un, aveva 1000 euro sul conto, si è messo a rialzo, con un lotto di dollaro yen, mi ha fatto la foto, e me l'ha mondata via whatsapp, e mi fa, cosa ho fatto? L'ho chiamato e gli ho detto, comincia a chiudere, e poi ti spiego che cosa hai fatto, però, stai facendo un'operazione in leva 100, chiudi, e poi ti spiego che cazzata hai fatto, detto questo, anche qui clicchiamo, quantità, quanti ne facciamo? Ah, quanti ne facciamo di gold? Uno, 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 uno. Allora, quindi vendita a livello di 1100, sì, sì, magari lo vendiamo meglio, a 1110. Ecco, esatto, esattamente, ne facciamo un ordine limite, così, ragazzi, gli ordini pendenti, sono, lo strumento che usano i ricchi, perché, è l'unico modo di far lavorare, i vostri soldi al posto vostro, quindi utilizzateli, studiate i grafici, piazzate gli ordini, spegnete il computer, e andate a cena con le vostre fidanzate, o mogli, o mariti, eccetera, ok? Quindi, mi raccomando, allora, eh, vediamo un pochettino, dicevamo, vediamo se abbiamo dato tutte le informazioni, eh, negli, nel calendario eventi, che trovate, sempre, qui, sul nostro sito internet, ecco, guardate, tra l'altro, è appena cambiata la dicitura, pochi minuti fa, era corsi e webinar, adesso è il calendario eventi, era un po' che attendevamo, che ce la cambiassero, perfetto, abbiamo appunto, il trading live, del giorno 13, che sarà con Enrico, alle 9.30 del mattino, poi, mi raccomando, se volete, fare, dei corsi, con noi, li trovate qui, formazionetrading.com, qui trovate, tutti i nostri migliori corsi, che abbiamo, eh, che abbiamo registrato, tra le altre cose, se andate su risorse gratuite, c'è un bellissimo corso di trading online, per chi comincia gratis, gratuito, quindi guardatevelo, che è veramente ben fatto, ed è gratuito, e nella sezione video corsi, come dovete fare, per scegliere il corso, andate, usate il vostro intuito, il corso che vi ispira di più, fatelo, l'altro giorno, a Verona, parlavo con Matteo PD, che è uno degli utenti, studenti attivi, della nostra, del nostro sito inter, che tra l'altro, ha fatto il, il corso, eh, vivere di trading, e diceva che secondo lui, i corsi migliori, sono, dai energia al tuo trading, che è questo che, trovate qui, e, prevedere la borsa, la teoria del tutto, l'ho sentito, mentre parlava appunto, con un altro, con un'altra persona, lì al, a Verona, al Forex ECF di tour, e appunto, gli ha consigliato, questi due corsi, perché secondo lui, assieme funzionano, particolarmente bene, chiaramente poi, tutto, condito col Forecaster, diventa davvero, una macchina, da soldi, quindi, insomma, sono, sono contento, anche che, in varie tappe, varie persone, del vivere di trading, sono venuti a trovarmi, anzi, ringrazio Fabrizia, ringrazio appunto, Matteo, ringrazio Stefano, che è venuto a Firenze, insomma, davvero, vi ringrazio tutti, è stato molto, molto bello, anche perché, parlare davanti, a 140, 150 persone, come a Verona, poi, non è sempre facilissimo, benissimo, anche Giovanni dice, per me, il miglior corso, è prevedere la borsa, benissimo, insomma, andate, guardate, io vi chiedo scusa, se non siamo riusciti, a rispondere, a tutti quanti, chiaramente, guarda, scrivete, se non abbiamo risposto, alle vostre domande, è facilissimo, basta andare su investire.biz, vedete che qui c'è, scrivi nuovo articolo, fate i vostri articoli, pubblicate le vostre analisi, così che noi possiamo, rispondervi, vedete che per esempio, se vedete i commenti, qui c'era, appunto, guardate, oggi qualcuno scriveva, sulla strategia 9924, Danilo scriveva, ha fatto, qualcuno ha fatto una domanda, scusate se rispondo con una domanda, ma non so, vorrei sapere qual era il sito, dove poter vedere gli strumenti correlati, ecco che ho risposto io, dando il link, ok? Bene, io vi ringrazio, vi, mi raccomando, allora domani mattina, l'aggiornamento su Banca Generali, vedremo un po' come è andata l'operazione, provate, ah ecco, una cosa importante, chi si abbona a Forecaster, può usufruire di 5 giorni di prova gratuita, ok? Quindi, semplicemente scegliete il vostro abbonamento, per 5 giorni lo provate gratuitamente, se in questi 5 giorni decidete di non abbonarvi, potete annullare in automatico il pagamento, se invece vi piace, decidete appunto di andare avanti con il servizio, basta, lasciate, lasciate tutto stare, e vi verrà debitato appunto l'importo del vostro abbonamento, non rompete le palle a dire che costa tanto, non è vero, con un'operazione ve la ripagate, quindi, attenzione, perché fino a fine anno, questi saranno i prezzi, poi appena Enrico mi metterà dentro anche gli indici, delle materie prime, aumenterò i prezzi, ok? Quindi, approfittatene adesso, a parte gli scherzi, Enrico, se volevi aggiungere qualcosa? No, no, certo, appunto, più persone si iscrivono, diciamo, prendono il forecaster, più faremo in fretta lo sviluppo, insomma, perché va bene tutto, ma non vogliamo, diciamo, rimetterci con questo, anche se, devo dire che col trading, stiamo già facendo degli ottimi risultati, quindi siamo contentissimi, però vogliamo che anche voi, contribuiate allo sviluppo, insomma, di questo software. Bene, 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 io vi ringrazio tutti, Roberto, ci dici, io sono contentissimo di essere qui, grazie a te Roberto, perché è bellissimo vedere persone, che si appassionano al trading, anche grazie a noi, e sono contento, quando capite, e respirate la passione, che noi mettiamo, nel fare trading, tutti i giorni, a condividere con voi, quello che facciamo, buona serata a tutti, e buon trading, ciao Henry, buona serata a tutti.